strisce blu nei parcheggi liberi di torre del greco è polemica dopo la scelta dell'amministrazione di regolare la sosta nei parcheggi della salle e della santissima trinità come ben sanno residenti e avventuri il parcheggio in quelle zone è da sempre gratuito composti delineati dalle strisce bianche per questo motivo sono in tanti ad usufruirne specialmente per il parcheggio la salle dove sostrano dipendenti dei vicini uffici comunali visitatori del cimitero e soprattutto i numerosi residenti che non possono risporre di altri posti auto gratuiti o interni ai condomini imporre le temute strisce blu comporterebbe un esborso giornaliero considerevole è quello che ha denunciato anche il consigliere comunale luigi caldarola ricordando che l'idea di introdurre la sosta a pagamento è un retaggio dell'amministrazione borriello per il consigliere l'attuale giunta dimostra di non andare avanti ma di riproporre questioni antiche il tutto a discapito dei cittadini